Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi oggi. Allora, oggi sarà un video super 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 richiesto in cui farò un semplice, diciamo più che massaggio alla schiena, farò un po' di scratching, un po' di tracing, ho anche dei pennelli per fare un po' di brushing e ho anche una gecgino cinese per fare una specie di massaggio. Adesso raccogliamo i capelli, che ne ha tanti e lunghi, e poi iniziamo con la schiena. So che in molti sarete invidiosi della mia amica, però lei si lamenta sempre. Faccio un attrezzo. Grazie. 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 così abbiamo un po' il collo libero e comincio con un po' di scratch con le mie unghie sulla parte superiore della schiena che secondo me è sempre un po' più sensibile ai grattini ai privati e perché si stesse chiedendo perché sto parlando a bassa voce? la risposta è che questo è un video A S M R quindi questo è un video con lo scopo principale di provocarti i famosi prevedini quelli che ad esempio si possono provare o si provavano quando da piccoli ci facevamo i grattini alla schiena così ok adesso prima di provare a scrivere un po' di parole facciamo un po' di disini facciamo un po' di onde del mare questo è un po' di 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 con tanti tanti raggi e una nuvola come oggi sentiamo un po' monofoloso un soleggiato monofoloso ok come qua i bulli come qua i bulli come qua i bulli come qua i bulli ti piace? sì ok adesso proviamo con qualche parola ovviamente cominciamo con relax per essere molto scontati e 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 un po' di tapping leggero e 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 ok allora un libro che si chiama le stanze di lavanda quindi andiamo un po' a scriverlo l e s a l z a d l a v a l d a e poi abbiamo l a l 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